tutte belle persone oggi siamo su questo video questo video parlerà di questo nuovo gioco che non ho mai fatto si chiama ruote felici promette bene vediamo di iniziare magari praticamente questo gioco consiste nel morire morire facendo livelli stupidi ci sono vari livelli tu puoi uscire anche tra quelli online però io farò solo quelli online perché sono i più belli se riuscissi mai a fare qualcosa ok 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ma se io volevo un 8 scusate allora vediamo lì sono già mi sono già fatto male in partenza perfetto in un posto in cui non vorrei non vorrei dire e viva la ruota che livello è raga siamo sicuri che era da fare questo muoviti o cazzo o cazzo o cazzo eh no quanta violenza che c'è nei giorni nostri in questi giochi che cavolo non è possibile salire allora da cambio livello perché questo è veramente possibile valcano boltro bellissimo ai boltro sono dei cioè potreste anche capirlo da nome dove bisogna tirare le palle addosso alla gente non lo neanche preso però non si sa come gli ho fatto a tirare giù la barriera prendi quella palla ok ti mi sa che non l'ho preso l'ho preso evviva ovi cos'era quello ho vinto raga sono troppo felice botto botto rani invece sono delle cose violente con le bottiglie no vagherai nel vuoto per sempre piccolo bimbo non ti spiace la cerchia evil guy episodio 8 peccato non ha scusa nonno attento no allora porca vacca nera cosa stai facendo non leccare il muro no cosa stai facendo non si si siede sulle catane ci si siede sulle sedie cosa stai facendo a bravo ora su è il volo dell'uccello volante è morto povero viva la facciamolo seriamente stavolta madonna che botta di culo gli ho dato in faccia e niente ok senza casco ma dai guarda mamma senza casco in fin dei conti il casco mi serviva che ne pensate proviamo a farne un'altra impossible impossible sono dei intrusi di schifo come mi sono rotto quella che qual è la fisica che dice che mi sono rotto una gamba piano 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 non ho più la testa ragazzi è così bello che ho perso la testa sasha cate legale che cosa mi rappresenta regga lentissimo us會 no lag andr scar tantissimo incredibile cos'è serviva e proviamo suur trump che è più o meno quello che mi ha fatto prima del bol trusolo con le catane e niente ho mio figlio sulle catane evviva cosa faccio adesso raga mio figlio no non voglio votare questo livello è brutto bel livello raga come sono morto io no sono ancora vivo raga combatti per me cosa sono appeso il mio intestino speriamo che arrivi ancora nei panini del mcdonald arrivino ancora rock swing questi sono c'è lo swing quindi z cosa succede no raga no mi servono le braccia senza braccia lo trovo un po' impossibile z attenzione abbiamo tarzan qui ma cosa sono appeso qui c'è tarzan raga qui c'è tarzan ok ho aspettato questi 4 secondi ora no la vittoria no aggrappati sali che bello che bello evviva ok botter run ancora sti botter run non sono capace bello mi piacciono questi livelli no raga il botter run veramente non sono capace another sword throw vai proviamo questo è con le katane spesse muori figlio quello era mio nonno e infatti mi ha punito perché era mio nonno avete visto per start prendi no voglio prendere le prime non le ultime nye sto sacrificando mio figlio muori nonno tu sei la tipa brutta che stava alla cassa l'altro giorno dai brutto cubetto schifoso creva nye beh raga un bel livello comunque muovo le mani 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 ok cerchiamo qualche rope swing da fare del tipo rope sto pregando cos'è un preghiera in arabo credo il mio piede ha finito su delle lame cosa sto facendo no no raga dai no basta nye tira fuori i robin hood che è in te no ma raga che brutti livelli non devo cercare rope devo cercare rope swing ok dovrei averlo cercato giusto no 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 non so entrare in un cannone quanto sei scordinato dai raga su esbe ok finalmente ce l'abbiamo fatta boom ho vinto e raga un applauso a me sono troppo forte facciamo hard questo mi dice che non riuscirò a finirlo perché perché è uno schifo di livello z no basta allora parti bene z indietro ok aggrappati no su oh che male che farebbe nella realtà quella cosa staccati dai raga aperiti no il braccio il braccio schifoso non mi sei mai stato simpatico si si evviva oddio sono felice cosa oddio spariscono le cose cosa succede cos'è vai entra oddio no no ti prego no ti supplico no 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 un po' di vita snella frate un po' di vita snella ci passi no ma va a cagare che schifo hardcore eh ancora di più non gli bastava l'hard ma ha voluto l'hard decor no lasciati no raga fanno un male ogni volta io provo dolore ogni volta che gioco questo gioco e non solo perché si fa male il tipo nel gioco z indietro veloce indietro ok ho fatto un salto come se fosse su un trampolino la qui non mi serve non non molto però cioè io non la uso molto però mi serve no ma dai raga non è possibile aggrappa a te c'è scritto lì ti prego posso finire sto livello normalmente aggrappati ok si evviva un livello brutto proviamo invece un bolt no dai anzi rifacciamo questi qua perché se no la ghicchia dai fate carica i livelli perché non carica oh ok posso farcela ok grazie un incoraggiamento che veramente mi mi ispira no posso farcela si 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 evviva evviva salta aggrappati che livelli brutti raga che brutti get in the box questo dobbiamo entrare in una scatola ok siamo col nonno questi livelli d'oggi che schifo no aia che male raga io non posso giocare a questi giochi mi viene male nye tirati su tirati su non fare gli esercizi di yoga allora bravo no no non così raga posso altamente altamente incavolarmi questo tipo no vai dietro frate cosa stai facendo sempre un bambino cosa fai stai ballando ok ok fermi fermi che forse ci siamo nye fai la verticale girati ok allora ti prendi e ti butti avanti prendi le tue braccia e ti butti avanti forca non ce la faremo mai ok ok no no basta mi sono stufato eeeh on the list cos'è perchè c'è una tipa con il che problema che problema hai frate che cosa bevi tu la mattina spiegami c'è qualche problema hai avuto qualche problema da piccolo ok go che lo fa è impossibile figlio stupido magari adesso ti picchio ti vengo e ti picchio ah è morto si è suicidato ha capito che aveva fatto qualcosa di male si è suicidato io ho perso una gamba aia no mi sento una testa in una testa in freccia stavo per dire go here mastardo gnie eeeh troppo forte sono mamma down cosa sarebbe mamma down aah noooo schifosa hai schifo fai eeeh debiga aurora c'è una mina è esplosata wait 3 second no non c'è voglia di aspettare no il frate che devo aspettare ready mamma mia come hai scritto ready ti potrei rinunciare solo per questo corri no dite che ho perso sono una raga raga da morire ma mi sa che ho perso va bene ragazzi questo era un video che ho fatto perchè dovevo eeeh no a parte di scherzo spero che vi sia piaciuto ditemi se volete un altro episodio di questo video e blablabla e tutte le altre cose le mettete mi piace guardate il video condividetelo ho fatto quel cavolo che mi pare noi ci vediamo a un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.